ben ritrovati ai podcast di spot sport communication e di radio montorfano continua la nostra preziosissima collaborazione con il nostro mental coach di fiducia al quale diamo il benvenuto ciao leonardo leonardo guidotti che ci sta accompagnando in questo cammino per capire in realtà cos'è tutto questo mondo che ruota attorno al mental coaching una puntata secondo me fondamentale non solo in ambito sportivo ma in ambito della vita quotidiana di tutti coloro che lavorano in team lavorano in gruppo lavorano nelle aziende e quindi diamo subito la parola a leonardo perché affrontiamo il team building e allora ciao leonardo benvenuto innanzitutto buonasera a tutti e colgo l'occasione per augurare buon anno visto che è la prima puntata ci siamo persi dall'anno scorso ben ritrovato allora diciamo così lo rivediamo dopo un anno e adesso ricominciamo questo percorso nel mental coaching e allora dicevamo parliamo di team building secondo me è una delle puntate più importanti per quanto riguarda il discorso del mental coaching non so se tu sei d'accordo assolutamente sì soprattutto per il fatto che è un tema trasversale ai vari ambiti sia quello lavorativo sia quello relazionale sia quello sportivo quindi direi che è una buona occasione di condivisione e spero anche di arricchimento per chi ci ascolta e allora iniziamo subito leonardo e io parto con la mia prima domanda qual è la differenza tra gruppo perché si sente parlare di gruppo e poi arriva questa denominazione di team quindi gruppo e team dove stanno le differenze allora diciamo che nel linguaggio comune quando si parla di squadra si tende a pensare a un insieme di persone che svolgono lo stesso compito che remano dalla stessa parte questo è vero però non è sufficiente cioè sarebbe un team grezzo un team povero se avesse semplicemente questo tipo di caratteristiche diciamo che la differenza principale tra un gruppo e una squadra è per il fatto che nella squadra ci sono dei ruoli ci devono essere dei ruoli che devono essere innanzitutto stabiliti ma poi anche accettati tra i vari membri del team questi ruoli possono prevedere una gerarchia o essere anche sullo stesso piano indifferente la cosa che è fondamentale è che ci sia un rapporto tra i vari ruoli e che questi ruoli vadano oltre al discorso dell'unità di intenti ossia io ho un determinato compito so fare bene una cosa sono stato diciamo chiamato sono stato assunto sono stato arruolato per fare bene una determinata cosa in parte a me nel team a fianco a me ho un altro elemento che sa fare bene un'altra cosa quindi i ruoli non servono semplicemente a dare un'etichetta ma a stabilire i vari compiti e i vari meccanismi che devono avvenire all'interno all'interno del team e in aggiunta al tema dei ruoli di cui ho appena parlato e deve esserci anche per quanto riguarda il team una metodica di lavoro precisa e consapevole anche questa condivisa all'interno del gruppo sia per quando le cose vanno bene sia per quando poi ci sono problematiche perché è facile parlare di squadra o di gruppo quando si ha successo o soprattutto mi viene a pensare anche in ambito sportivo all'inizio della stagione no siamo una squadra però poi quando ci sono i punti critici bisogna vedere se effettivamente siamo una squadra un gruppo e ci tengo ad aggiungere che un altro fattore che discerne tra la squadra e un gruppo è la presenza di un leader il leader può essere super partes quindi tiro un po' l'acqua al mio mulino la figura ad esempio dell'allenatore ma non è detto ci può essere un leader che invece all'interno del gruppo non c'è più di tanto differenza dal punto di vista dell'impostazione della squadra e del team ma diciamo c'è differenza semmai sulla presenza o meno perché ci sono delle squadre in cui il leader è in campo per esempio nella palacanesto nel calcio sono delle squadre che non vi è un giocatore che è spiccatamente il leader e allora lì diciamo il ruolo di guida al luogo di dare una direzione al lavoro viene affidata all'allenatore e al suo staff e quindi qui nasce un po' l'idea del team building esatto poi scusami roberto ti interrompo mi sono dimenticato di fare una piccola premessa diciamo che io mi auguro che la puntata di oggi vengano lasciati dei concetti chiari a chi ci ascolta però per parlare di team building servirebbe almeno una giornata perché è un tema estremamente ampio è un tema trasversale quindi come ho detto anche facciamo così allora questa sera diamo questo input un assaggio questo assaggio e poi prossimamente andremo più a fondo dei vari argomenti di quello che tu riterrai più opportuno fare ascoltare ai nostri ascoltatori far conoscere e perché no magari confrontarsi se qualcuno poi vorrà raggiungerci durante le nostre serate volentieri può esserci anche questo interscambio di idee e serve a costruire un team a far crescere il team building ok quali sono le possibili strategie allora nello sviluppo di un team building allora innanzitutto è utile chiarire un aspetto le grandi squadre i grandi team sia dicevo sia dal punto di vista lavorativo che nell'ambito sportivo sono tali quando vi è la tematica della collaborazione ma e qui faccio subito una piccola digressione la collaborazione in un team efficace non deve essere un imperativo etico non deve essere affidata alla buona volontà dei colleghi o dei giocatori ma deve far parte del sistema di azione se parliamo di sport deve far parte del sistema di gioco e quindi per esempio se si parla di basket io non posso pensare che i miei giocatori si passino la palla perché sono si vogliono bene o perché non c'è quello che pensa al suo interesse ma perché la collaborazione fa parte del mio sistema di gioco quindi questa deve essere la prima cosa la cosa fondamentale poi per quanto concerne il tema del team building è essenziale la presenza di persone con un'abile capacità comunicativa soprattutto per quanto riguarda la gestione dei conflitti come dicevo prima si è sempre squadra quando vi è un periodo di successo o di successi quando invece ci sono i conflitti che sono fisiologici anche nella squadra migliore della storia deve esserci un'abile capacità di comunicazione quando va male una cosa ad esempio che diciamo aspettava al ruolo di una persona non deve esserci nessuno che va a sostituirsi perché se io ho il mio centro che non gioca bene non esiste che ho il playmaker col portatore di palla che dice no ora oggi faccio io il pivot spero di essere chiaro ma deve esserci rispetto e un'abile capacità comunicativa per la gestione al fine della gestione dei conflitti e poi prima ho nominato la figura il leader ma deve essere compito del leader e non solo motivare motivare le persone al cambiamento in positivo e motivare le persone al raggiungimento degli obiettivi di cui abbiamo parlato più volte anche in una puntata a parte perché nel team deve esserci degli obiettivi stabiliti e condivisi da tutti e ognuno nel suo ruolo ma si lavora comunque in funzione di di tale obiettivo o di tali obiettivi e è utile se che si parli di anno lavorativo si parli di stagione è utile che questi obiettivi siano chiariti fin da subito e accettati da tutti e vedere se ci sono delle divergenze per quanto riguarda questi ultimi parlando sempre di strategie utili allo sviluppo del team building direi la capacità anche di infondere fiducia e di avere fiducia quindi andare e ricevere per avere fiducia per dare fiducia una condizione necessaria ma non sufficiente quella di essere ottimisti quindi essere fiduciosi del cambiamento essere fiduciosi darsi del tempo e dare del tempo ai colleghi ai compagni di squadra al proprio staff e dicendo è anche un allenatore nei suoi giocatori e io non posso pretendere che a prima della metà della stagione vedo già la mia squadra cambiata se io riesco a ottenere un cambiamento per ogni giocatore della mia rosa che può essere di 12 15 quello che è io a fine della stagione ho una squadra che è cambiata in 15 cose una squadra che è cambiata in 15 cose non è la squadra è un'altra squadra non è la squadra di prima migliorata è un'altra squadra quindi ecco sottolino il fatto della fiducia senti qua parlando delle varie strategie tu hai parlato di collaborazione ok facciamo un focus sul tema della collaborazione perché a me interessa molto capire come possono interagire qual è la possibilità appunto di collaborare come come hai detto tu prima sì diciamo in parte l'ho già pronunciato nel senso quando si parla di collaborazione diverse volte si si tende a pensare ma si costruisco una squadra un gruppo di persone che sono diciamo sono abbastanza al tu tendono a essere abbastanza altruiste tendono a parlarsi così magari anche a frequentare in ambito extra lavorativo gli stessi ambienti non lo so ma ci può essere anche un discorso di amicizia sotto ok ma non deve essere una tematica che va a influenzare il discorso della collaborazione ok per far questo io l'ho detto anche prima devo predisporre le cose e in modo tale che la ci sia collaborazione a prescindere da un discorso etico e quindi devo impostare il mio la mia metodologia di lavoro o il mio modo di giocare strutturato sulla collaborazione quindi che anche se un giocatore pensa su interesse se vuole giocare insieme a tutti deve per forza di cose collaborare mi viene anche qui non abbiate abbiate pazienza che torno sempre sul pianeta basket però ad esempio se il gioco che si fa in varie squadre giovanili che la motion offense cioè un gioco improntato per chi non si intende di basket è improntato molto sui passaggi più che sui blocchi o sui gioco con tanti palleggi uno contro uno se già io impongo il sistema motion obbligo tra virgolette tutti i miei giocatori a collaborare e poi se vanno anche la sera a mangiare finita la partita a mangiare la pizza io sono contento ma non è che giocano bene insieme perché sono tutti amici per forza di cose e spero di essere chiaro su questa cosa qua perché è molto importante quindi non lasciamo la collaborazione semplicemente alla buona volontà in più ho anticipato prima se si vuole collaborare bisogna avere degli obiettivi almeno in parte in comune o sulla stessa frequenza quindi dette in una parola che siano allineati ok anche qui vorrei fare un focus in ambito sportivo per i vari allenatori è utile prima che inizi la stagione non ha campionato iniziato ma neanche quando si fanno amichevoli è utile sedersi tutti ad un tavolo e dire ma con anche la società quindi dirigenti presidente quant'altro e dire che obiettivi abbiamo quest'anno e allora dopo si lavorerà tutti e nove mesi dieci mesi quello che è in funzione di non è che uno per dire vuole salire di categoria l'altro punta la salvezza e via dicendo se no si vanno a creare dei grossi suoi problemi e dei conflitti in conclusione parlando del tema collaborazione io quando si è già imposto gli obiettivi li ho condivisi e in fondo una metodica comune di lavoro devo ho già fatto tanto ma devo passare anche alla fase di monitoraggio quindi avere dei feedback frequenti per quanto riguarda i miei giocatori per quanto riguarda per dire in ambito lavorativo invece le persone che stanno attorno a me sopra o sotto di me ovviamente in termini gerarchici e avere ripeto un un'analisi un feedback da loro di come si stanno trovando e gli obiettivi sono sempre gli stessi è cambiato qualcosa hanno dei suggerimenti strategie a proporre tra di loro o da condividere con me e quindi ecco ci tenevo a soffermarmi sul tema della valutazione del esercitare il feedback quindi collaborazione interscambio di idee continuo in modo che almeno si riesca ad arrivare all'intento comune come hai detto prima allora Leonardo io direi per oggi possiamo chiudere qui questo inizio di team building in modo che i nostri ascoltatori iniziano a farsi un'idea con loro torneremo presto a parlare di team building a parlare di attività per far crescere sempre più questi gruppi di lavoro che sia in ambito sportivo in ambito lavorativo chi vuole ecco può contattarci alla radio oppure sui social di spot and sport communication oppure direttamente da Leonardo Guidotti e da lì possiamo iniziare a costruire perché no chissà possa nascere un team una squadra far nascere questo team building per il momento è tutto noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia Leonardo a presto oramai l'anno l'abbiamo passato e quindi ti avremo presto ancora nostro ospite per altri podcast per continuare in questo mondo del mental coaching a risentirci a presto sia su spot and sport communication che su radio montorfano